C'è preoccupazione nella comunità scientifica e tra i medici di base. Con l'autunno incombe l'arrivo di una nuova ondata di Covid innescata dalla variante Centaurus, ma soprattutto preoccupa il ritardo che i colossi farmaceutici stanno accumulando nella realizzazione dei vaccini aggiornati per le nuove versioni del virus. Ne abbiamo parlato con il noto virologo Fabrizio Pregliasco e con il segretario della Federazione Medici di Base. Qual è la situazione? La campagna vaccinale per quanto riguarda la quarta dose dei fragili, degli oltre sessantenni, ha veramente avuto poco successo. Tutto questo è proprio dovuto purtroppo a una narrazione negativa del valore del vaccino attuale e dell'attesa per questo nuovo vaccino aggiornato. L'unico ad oggi registrato, l'EMA, è un vaccino bivalente di Moderna, ma ad oggi non si sa quando sarà effettivamente disponibile in Italia. Saremo sempre in ritardo perché presumibilmente quando ci arriverà in Italia il vaccino per Omicron avremo altre varianti, sarà un po' il destino di una convivenza con questo virus che si protrarrà nel tempo con onde di rialzo e di discesa che speriamo vadano a digradare un po' come le onde di un sasso in monostagno a meno che non si inserisca una variante particolarmente nuova e quindi con una elevata capacità diffusiva. Diciamo che non abbiamo certezza della consegna del vaccino nuovo. Stanno lavorando sui vaccini, non sappiamo esattamente quando arriverà questo vaccino. Sicuramente in autunno, poi se sarà fine settembre, ottobre o inizio novembre questo lo potremmo sapere con maggiore certezza tra qualche tempo. Comunque sono vaccini che sono nuovi rispetto a quelli che stiamo facendo adesso con la quarta dose e sono vaccini che coprono di più le nuove varianti Omicron, soprattutto che sono quelle che hanno caratterizzato l'ondata estiva. Il rischio è che i vaccini aggiornati per le nuove varianti arrivino quando queste saranno già state soppiantate da versioni diverse del virus. Questo rischio purtroppo c'è, purtroppo c'è. Noi abbiamo il timore. Abbiamo firmato l'accordo per la somministrazione della vaccinazione anti-influenzale e invitiamo i cittadini a sottoporsi, quelli a rischio, soprattutto gli ultrasessantenni in questo caso, più i pazienti con patologie croniche, a parlare col medico per la somministrazione del vaccino anti-influenzale che potrà essere fatto in contemporanea al vaccino Covid.